Musica Martedì 5 dicembre, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di TRG. Tantissimi oggi gli spunti dei quali vi parleremo durante questa rassegna stampa. Innanzitutto in evidenza il calcio violento dopo i fatti avvenuti lo scorso fine settimana su due campi di calcio dove giocavano dei ragazzini con partite che sono state alla fine sospese per calcio e pugni e insulti vari avvenuti in campo. Ci si domanda che tipo di calcio è questo e soprattutto che tipo di sport è questo che sta letteralmente avvelenando gli animi anche dei più giovani. E poi parliamo di un'inchiesta, quella che riguarda le farmacie, ovvero l'accreditamento di farmacie presso la regione. Ci sono degli indagati per quella che potrebbe essere stata a tutti gli effetti una truffa. Vedremo di che cosa si tratta. E poi parliamo anche di movida violenta perché a Perugia come a Foligno ormai da tempo c'è la lamentela di chi vive nel centro storico e che in qualche modo si trova ad essere vittima di delle movide soprattutto nel fine settimana ma anche di, nel caso di Perugia lo leggeremo, di attacchi spaccate in negozi e in generale in esercizi commerciali del centro. Ma poi vi racconteremo anche molto di più ovviamente nella pagina sportiva con il grifo che è tornato a vincere. Allora le prime pagine dei quotidiani. Il Corriere dell'Umbria titola Questo calcio non è più un gioco. I due recenti episodi di violenza in campo tra squadre e giovanili impongono una seria riflessione. Lo scorso fine settimana, ovviamente ieri l'avremo letto in tutti i quotidiani, ci sono state due partite che in qualche modo sono finite in mano ai violenti. Siamo nella categoria dei giovani, in particolare Torneo Juniores a due partita tra Pievese e Passignano con due ragazzi che sono finiti all'ospedale e dall'altro partita tra Trestin e Collepieve, allievi a due. Anche qui partita sospresa, sono volati calci, insulti, pugni, addirittura morsi sul collo tra giocatori. Ovviamente uno spettacolo indecente sul quale è intervenuto ieri Giuseppe Palmerini, presidente della Feder Calcio Umbra, che dice si tratta di mele marce, ma dobbiamo comunque fermarci a riflettere e chiedere l'aiuto delle famiglie che devono tornare ad educare. E poi a Perugia c'è stato il blocco delle auto in questo fine settimana, quelle che in qualche modo non sono in regola con le emissioni, ma non è servito a granché perché il particellato nell'aria continua ad essere alto, meno automobili più smog, l'esordio del blocco del traffico non ha risolto il problema. E poi ovviamente ne parleremo nello sport, Falco fa volare il grifo, una rete al 92esimo manda al tappeto Lascoli nel posticipo e finisce 1-0. E poi Foligno, SOS, strisce fantasma, le strisce pedonali ovviamente parliamo, pedoni sempre più a rischio, a Città di Castello il giallo di Only Wine c'è chi dice che chiude e chi invece che rilancerà nella prossima edizione che sarà a quel punto la quinta, lo leggeremo ovviamente nella cronaca locale. La Nazione apre con Perugia, adesso basta, la foto è quella del sindaco Romizzi, centro storico assediato da ladri e vandali, il sindaco Romizzi dice useremo ogni mezzo per salvare l'acropoli. E poi l'inchiesta sulla sanità e i favori ad alcune aziende, ci sono nomi eccellenti tra gli indagati in una inchiesta che era partita due anni fa, a Città di Castello il coraggio di Silvana malata di cancro che ha presentato una iniziativa, un calendario a scopo benefico e poi ancora calcio violento, risse e morsi tra ragazzini così perde lo sport, questa l'opinione del presidente della federazione calcio Umbra, ancora a Passignano sul Trasimeno un anziano cade dal battello che lo portava all'isola maggiore e muore. A Terni, a Ciaierie, ieri era la giornata di Santa Barbara, realizzato un crocefisso in inox per Papa Francesco con le acciaierie, appunto gli operai delle acciaierie che lo hanno realizzato. Ancora fuori ufficio nell'orario di lavoro, stipendio dimezzato ad una impiegata, per la furbetta è scattata anche una sospensione dal lavoro di tre mesi. E poi andiamo al messaggero che decide di aprire con il caso delle farmacie e favori questa inchiesta dei carabinieri partita due anni fa, sono 13 gli indagati, per loro l'accusa è cattiva gestione della cosa pubblica e forzature contestata all'associazione a delinquere a farmacisti e all'ex dirigente regionale Perelli. Insomma, lo leggeremo nel dettaglio, l'ipotesi è quella che ci siano stati appalti in qualche modo mirati e controllati per chissà, vedremo quali erano le finalità, ma ovviamente l'illecito è stato per il momento individuato, bisognerà vedere come andrà il processo. Intanto la fotonotizia ci porta a Perugia, movì da misurata, gli studenti dicono ai residenti del centro di Perugia, dialoghiamo, troviamo un modo per convivere. Assenteista per il caffè a Cadapperugia, è stata sospesa per cinque mesi e mezzo dal posto di lavoro con lo stipendio dimezzato, proprio perché si era assentata dal posto di lavoro senza avere il permesso, la scusa doveva prendere il caffè. A Terni trasferito il prete rosso, parliamo di Don Fernando Benigni, 75 anni, a tutti noto come il prete degli emarginati, dei tossicodipendenti, un prete davvero missionario, alla sua parrocchia nel Ternano, ebbene è stato trasferito e ovviamente ha creato questo qualche malumore. Ma poi vi racconteremo proprio da Terni, nelle pagine di Cronaca, una storia davvero da triste ma da lieto fine, come si converrebbe nel periodo natalizio, 90enne sfrattata trova una casa. Ancora lo smog nei nostri polmoni, perché Perugia ha in questo momento l'aria più pulita di Terni, ma non è un vanto, perché a Terni l'aria è davvero pesante, nel particellato sono stati trovati anche nickel e cromo. Parleremo poi di Vissani, lo faremo tra poco, il suo jacuzzi sulla tavola umbra e infine il meteo. Che tempo dobbiamo attenderci? Oggi ancora domani bel tempo, ma da giovedì peggiora. Arrivano le nubi che interesseranno il fine settimana, dicevamo dunque da giovedì e presumibilmente almeno fino a domenica dovremo a che fare con pioggia e vedremo anche se con qualche fiocco di neve. Queste erano le prime pagine dei quotidiani. Allora nel dettaglio le pagine dedicate agli argomenti di interesse regionale. Il Corriere dell'Umbria ci parla di questo calcio violento che lo scorso fine settimana ha assediato i campi di calcio delle giovanili. Ci sono mele marce, ma noi lavoriamo per un calcio sano. Parla Giuseppe Palmerini, che è il presidente della Federcalcio Umbra, che dice che chi dà origine a fenomeni violenti sono persone facenti parte di uno sparuto gruppo, quindi insomma dice che sono la minor parte del calcio umbro, ma certamente devono essere fermati perché gettano ombre sull'intero movimento calcistico umbro. Che cosa dice il presidente? Quello che colpisce dei recenti fatti è che la violenza si è insinuata tra i giovani. Da qui la necessità, dice il presidente, di misure forti, anche esemplari, ma anche l'appello alle famiglie, ai genitori, perché in qualche modo sono i primi responsabili ed educatori dei propri figli. E guardate che cosa curiosa, proprio perché i genitori in qualche modo sono chiamati in causa per primi, ecco che cosa c'è affisso sul campo di calcio di Castiglion Fiorentino. Consigli per il genitore a bordo campo, l'allenatore allena, l'arbitro arbitra, tu divertiti, il tuo compito è sostenere la squadra e tuo figlio non pensare a consigli tecnici, non insultare gli avversari, sono ragazzi come tuo figlio, applaudi più forte che puoi e goditi la partita. Beh, insomma, davvero singolare, chissà se qualcuno lo ascolterà, speriamo di sì. Intanto torniamo sulla vicenda che lo scorso fine settimana è stata protagonista della partita tra Trestina e Collepieve. Allora, ieri la società del Trestina ha divulgato un comunicato stampa in cui ha ricostruito il suo punto di vista su quello che è accaduto in questa partita che alla fine è stata sospesa dall'arbitro. Dice il comunicato del Trestina sul punteggio dell'1-1 tra Trestina e Collepieve a seguito di un gol segnato dopo che la squadra ospite chiedeva un'interruzione del gioco per un loro giocatore a terra, di fatto si è scatenato una vera e propria rissa in campo. Dopo l'espulsione di un giocatore della squadra ospite ci sono stati in ordine calci da fermo ad altezza Duomo, manate, pugni sul viso, sul collo, morsi addirittura, sputi da parte dei giocatori anche nei confronti degli spettatori e genitori che nel frattempo si avvicinavano alla rete per sincerarsi delle condizioni dei propri figli ma alcuni di questi anche hanno lanciato minacce e anche soprattutto insulti nei confronti dei guardaline. Secondo il Trestina dalla panchina gli stessi dirigenti accompagnatori di questi ragazzi violenti nulla hanno fatto per calmare gli animi dei loro giocatori. Il tutto è finito con tre giocatori del Trestina che sono finiti in ospedale e hanno una prognosi di otto giorni, uno spettacolo davvero pessimo sul quale è intervenuto anche l'assessore allo sport di città di Castello Massetti che ha detto ha perso il divertimento. Bene, vedremo che tutti i quotidiani parlano di questo ma noi vi abbiamo letto più approfonditamente le motivazioni e le ragioni. Andiamo a parlare di aeroporto, la Corte dei Conti punta a fly volare, cioè la Corte dei Conti vuole vedere chiaro sulla faccenda fly volare l'agenzia che doveva attivare dei voli da Sant'Egidio ma che di fatto mai l'ha fatto e che ha però per il momento intascato i soldi dell'anticipo. E poi oggi parliamo anche di prodotti umbri e ovvero di buona tavola perché ciclone Vissani, da dove arrivano patate e lenticchie? Allora ieri il noto chef ha presentato a Perugia l'edizione winter quindi invernale della festa della cipolla di Cannara. Ebbene questa presentazione è diventata un vero e proprio show con anche come dire qualche nota di accredine con la regione che lì era rappresentata dall'assessore regionale Fernanda Cecchini. Abbiamo distrutto dice Vissani questa piccola Umbria, non c'è più niente, Castelluccio si è abbassato di 30 centimetri e produce lenticchie, arrivano dalla Grecia ovviamente provocatorio, la patata rossa di col fiorito proviene dalla Francia, il latte e il pecorino da dove provengono. I cuochi moderni, continua Vissani, che cucinano alle basse temperature sono folli, i vegani sarebbero da uccidere, c'è anche chi mangia solo frutta, siamo alla deriva. Ancora Vissani dice mangiamo prodotti agricoli pieni di pesticidi di cui non sappiamo la prevenenza, il tartufo nero coltivato non vale nulla, la carne si restringe in padella perché il macellaio vi ha preso in giro, è roba geneticamente modificata, le mamme hanno distrutto il nostro patrimonio culturale perché chiedono la carne senza grasso e stanno per arrivare anche gli insetti sulle nostre tavole. Insomma una bocciatura a pieppari sia delle politiche agricole della regione ma ovviamente anche delle famiglie italiane e questo è Vissani. Questo era il Corriere dell'Umbria, andiamo alla Nazione per le sue pagine in primo piano e in primo piano c'è l'inchiesta della Nazione dedicata a Perugia sulle spaccate in centro, commercianti esasperati, il sindaco Romizzi che promette interverremo intanto i residenti di Piazza Alfani dicono noi assediati dalla movida dei maleducati. Ancora l'aria che si respira, il PM10 a Perugia è in calo ma ci sono ancora situazioni da attenzionare ma il traffico viene fermato nel fine settimana perché si pensa che questa sia una delle principali cause proprio della cattivaria anche se c'è chi sostiene che non sia così. E poi questa storia che ha sicuramente attirato l'attenzione si assenta dal lavoro senza ser permesso una dipendente di Palazzo dei Priori, quindi siamo a Perugia, viene sospesa cinque mesi dal lavoro e ha stipendio dimezzato. Il tutto grazie alla legge Madia che glielo consente. Ancora a Perugia la sede regionale del PD dice addio alla Piazza della Repubblica, il PD è l'addio alla sede, è un problema politico dice la Marini, la fondazione a debiti non mi risulta. Insomma il problema secondo Catiuscia Marini è politico, quello cioè della vendita della sede del PD di Piazza della Repubblica che tra l'altro secondo la Marini venne acquistata anche grazie alle donazioni dei sostenitori del partito. Vedremo dove andranno. Così perdono tutti, ovviamente anche la nazione torna a parlare di calcio violento, il Trestina dice calci e morsi a giocatori e tifosi. A Città della Pieve un caso simile assediati negli spogliatoi, siamo rimasti negli spogliatoi assediati dai giocatori avversati e dai loro sostenitori, parla il club del Passignano dopo il brutto episodio in campo accaduto a Città della Pieve sabato scorso. E poi ancora per le notizie in primo piano, ieri era la giornata in cui i vigili del fuoco celebravano la patrona Santa Barbara, un anno di fuoco, pompieri in prima linea, ma dice Notaro rispetto a tanti interventi che sono stati portati avanti manca di fatto il personale. E quanti sono gli interventi nella provincia di Perugia, dei vigili del fuoco di Perugia? Sono ben 22.000. 3.000 sono le istanze di prevenzione di incendi che sono state base, 521 le commissioni collegiali svolte, 747 i lavoratori formati sulla sicurezza, 773 le verifiche sui luoghi di lavoro. Questi alcuni dati restano i tanti interventi che sono stati fatti nelle aree del terremoto. E poi l'inchiesta sul mondo della sanità, favoritismi sistematici, 13 indagati coinvolti funzionari e farmacisti. È stata chiusa l'inchiesta dei NAS, spuntano anche corruzione e concussione. Di che cosa parliamo? Favoritismi da parte di alcuni dirigenti e funzionari regionali nei confronti di farmacisti e fisioterapisti. Ipotesi di corruzione, concussione, truffa, abuso d'ufficio, rivelazione di segreto e tantissimi episodi di falso. Sono alcune delle accuse che la Procura della Repubblica di Perugia contesta a 13 persone a cui ha fatto recapitare l'avviso di conclusione delle indagini per una delle inchieste più delicate degli ultimi anni svolte a Perugia. Vedremo come finirà. E poi a Bastia Umbra, volto coperto e pistola in pugno, un rapinatore scappa dopo aver messo a segno un colpo al Penny Market. Ancora c'è un'iniziativa della Nazione che vi chiede in queste festività natalizie di votare il presepe più bello. Dunque mettetevi in viaggio per tutta la regione e poi votate con la schedina. E ancora per le pagine in primo piano a Perugia appuntamento venerdì e sabato quando questo signore che si chiama Andrea Loreni farà il funambolo camminando su una fune d'acciaio sopra il centro di Perugia a 40 metri. Di altezza l'appuntamento, dicevamo, venerdì e sabato tra le 16 e le 17. Rubinetti a secco fino a stasera a Perugia ed Assisi per lavori che sono stati approntati da Umbra Acque e per lo spettacolo in primo piano. Ad Assisi, venerdì alle 21.15 ci sono Ale France al Lyric mentre stasera a Perugia c'è la stagione del Jazz Club alla Sala Raffaello Brufani di Perugia con Fabrizio Bosso che sarà sul palco. Queste le pagine di interesse regionale della Nazione, uno sguardo al messaggero che ci parla dei Vigili del Fuoco nel giorno in cui hanno celebrato Santa Barbara. Scomparsi è boom, pensate un po' tantissimi casi quest'anno, i Vigili del Fuoco hanno affrontato di persone scomparse. Scatta l'allarme per le feste di Natale ma pensate c'è un costante aumento di persone che scompaiono e quindi bisogna andarle a cercare, addirittura anche due in poche ore e vengono messi in campo per ritrovarli mezzi aerei e tecnologia di avanguardia. Bene, questo in evidenza per le pagine regionali, scendiamo nel dettaglio di quelle locali, in realtà alcuni argomenti li abbiamo già trattati, vediamo rapidamente dal Corriere dell'Umbria, Perugia ottagono blindato, abbandonato da 17 anni, l'edificio di via Martiri dei Lager è la priorità perché bisogna bloccare le occupazioni abusive che lo riguardano. E poi l'inchiesta sanità l'abbiamo già letta, denominato Piramide, questa inchiesta è al Capolinea, sono 13 gli indagati per quella che si ipotizza essere un'associazione a delinquere. Lo smog torna subito, scatta l'allarme dalla giornata di oggi, qualità dell'aria che non migliora né a Perugia né tantomeno nel Ternano. E poi tiene nelle pagine di cronaca locale il Corriere dell'Umbria la festa dei Vigili del Fuoco che si è celebrata ieri in tutte le città. Universo Assisi 2018, nato per stupire, si sposterà anche a Santa Maria degli Angeli, dunque Assisi ha già presentato la Kermesse che si terrà nel luglio del prossimo anno. A Bastia Umbra è stato un boom di visitatori, l'evento di Conf Commercio Natale e poi lezioni di arte presepiale a partire dal 23 dicembre, capolavori in mostra ad Assisi a Palazzo del Capitano del Popolo. Siamo a Città di Castello, il giallo Only Wine, lascia, no, fa cinquina. Allora, l'allarme era stato lanciato dal consigliere di Forza Italia Sassolini che ha detto Città di Castello dopo aver perso manifestazioni importanti come la mostra del cavallo e le giornate dell'artigianato storico dopo il flop della mostra del tartufo e le fiere di San Florido, ora sembra che abbia a rischio anche la manifestazione Only Wine. Gli risponde dall'altro lato il comitato organizzatore di Only Wine che dice non è assolutamente vero, la manifestazione si terrà il 28 e 29 aprile e sarà la quinta. Staremo a vedere. La faccia del cancro in un calendario, l'iniziativa a Città di Castello di Silvana Benigno, sostenuta da Leonardo Cenci, servirà a raccogliere fondi per la ricerca. E poi cade in terrazza mentre è sola, soccorsa dai vigili del fuoco e dal 118 una donna è stata trasferita in ospedale. A Umberti dettante le iniziative per il periodo natalizio, anche un'edizione il prossimo 8 dicembre di altro cioccolato winter. E poi c'è anche la presentazione di un calendario che è proprio un calendario della città di Umbertide. Città di Castello, Renzini sbarca a Fico Italy World, lo spazio è dedicato a una delle principali eccellenze Umbre, ovvero la porchetta. E poi chiarezza sulla color glass, il comitato alza la voce, chiede l'installazione di altre centraline. A Gubbio, ieri festeggiata Santa Barbara, i vigili del fuoco hanno tenuto la loro messa alla celebrazione il neovescovo Paolo Cibedini, che ovviamente ha già tanti impegni in diocesi da assolvere. La natività della Tun farà bella mostra di sé in piazza Grande a Gubbio e poi il paesaggio rurale di Burano è stato presentato ieri, un libro che lo racconta. Nuovi indirizzi, siamo a Gualdotadino, all'istituto Casimiri, i capigruppo consigliari fanno un appello alla regione perché voti ed approvi i nuovi indirizzi, il voto è atteso entro la fine dell'anno e poi a Nocera successo oltre le aspettative a Bagnara per i prodotti del mercatino dei doni. Sempre torniamo nella parte bassa del quotidiano, parliamo di Gualdo, oggi pomeriggio alle 15.30 alla Scuola Sturelli verrà presentato il progetto Scuola 2.0 e poi c'è la foto del taglio del nastro domenica della mostra dedicata a Adolfo Leoni, il ciclista gualdese di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita. Foligno strisce fantasma attraversare un rischio e poi attesa febbrile per l'accensione delle luminarie, mentre ieri c'è stato un ospite d'eccezione alla riunione di Confindustria Giovani, Vittorio Malingri, il navigatore che ha raccontato la sua esperienza di vita. Vigili del fuoco, oltre 2.000 interventi in un anno, sempre in prima linea e poi il mercato delle gaite di Bevagna mette in vetrina l'eccellenza alla fiera dell'artigianato che si tiene a Milano. Ancora dal Corriere dell'Umbria, Spoleto, stabilimento militare, assunzioni in arrivo, possibilità di sviluppo per l'ex spolettificio di Bagliano, serve un ricambio, sicurezza incrementata dopo un incidente che aveva coinvolto una militare. A Terni i vigili del fuoco raccontano il loro anno in trincea, in basso AST, parliamo di acciaierie, è stato fissato il vertice col ministro Calenda, ricordiamo la ThyssenKrupp ha messo in vendita le acciaierie, si cercano garanzie sul futuro di questo storico stabilimento. Andiamo alle pagine locali della nazione, in particolare dal Trasimeno, cade dal battello per l'isola maggiore, perde la vita un perugino di 73 anni, inutili tentativi di salvare il poveretto. Universo Assisi, pronti a raddoppio nel 2018, svelati i particolari del festival che si farà all'area ex Montedison. E poi ancora dalla nazione, da Gubbio, la città abbraccia il nuovo vescovo conquistati, dicono i fedeli eugubini, dalla sua semplicità. A Gualdo Tadino la leggenda del ciclista gualdese Leoni viene raccontata in una mostra che è stata inaugurata domenica e ancora a Gubbio il partito socialista conferma alla guida Valeria Passamonti. A Città di Castello presentato questo calendario che raccoglie fondi per la lotta contro il cancro testimonia al proprio una signora affetta malata di cancro e poi si accendono le luci del Natale ed anche ovviamente la mostra dei presepi. In basso da Bruxelles all'esposizione nei negozi del centro storico i suggestivi dipinti di Antonio Renzini scendono tra la gente. Ancora Umbertide dei consiglieri di Umbertide Cambia chiedono dove sono i soldi dei lotti sulla vicenda Moschea. Foligno, l'azienda Bazzica cresce, è l'azienda la conoscerete sicuramente, leader del Polistirolo, cresce in termini di fatturato e territorio, vendiamo tecnologia, innovazioni anche per l'edilizia. E poi ancora per le pagine della Nazione da Spoleto dove andremo a giocare a tennis e impianti a rischio, racchette in rivolta, problemi ai circoli di Spoleto e Montarello. Cannara ve l'abbiamo raccontato, Bissani che ha presentato questa edizione winter della festa della cipolla, mentre a Terni gli operai del Last hanno realizzato una croce d'acciaio per il Papa ideata e realizzata in Viale Brinna. Andiamo al messaggero che ci racconta da Perugia, stop alle auto PM10, giù torna l'idea però delle e-bike, ovvero le biciclette elettriche per ridurre lo smog in città. Movida folle, studenti aperti e disponibili al dialogo con i residenti. Questo è il signore che tra venerdì e sabato da 40 metri d'altezza farà il funambolo in corso a Perugia e poi ovviamente anche il messaggero ci parla di farmacie e favori, sono 13 gli indagati forzature per favorire amici e parenti. Ricordiamo tra gli indagati dirigenti regionali coinvolti, secondo l'accusa, avrebbero favorito amici e parenti negli appalti sulle farmacie. E poi Todi per il Ciuffelli e Naudi c'è il campus, tre sedi dislocati in edifici storici per 900 studenti che si dividono tra otto indirizzi di studio. A Città di Castello, l'abbiamo visto, il calendario di Silvana racconta la sfida al cancro. A Gualdotadino il fine settimana ha visto protagonista un convegno sulla ceramica, a Gubbio per il nuovo vescovo sono già tanti gli appuntamenti, ieri ha ufficiato la messa per Santa Barbara e poi andiamo a Foligno dove arrivano più telecamere per aumentare la sicurezza in città. Tre punti per le riprese, tutti posizionati su palazzi storici. Dal mondo della Quintana il grazie dell'ASL e in particolare del servizio di salute mentale di età evolutiva arriva nella Mora per aver accolto i bambini autistici in una giornata di festa in taverna. E poi andiamo a parlare di Spoleto, si apre uno spiraio per il fortilizio dei Molini, il recupero attraverso la gara del demanio, cammini e percorsi. L'iniziativa è sostenuta dal Ministero. Ci spostiamo nel territorio di Terni, metalli pesanti nell'aria, dati sempre più allarmanti. Nel 2017 è confermata la presenza di nickel e cromo e decisamente non è una buona aria, quella che si respira. Oggi vi raccontiamo però anche questa storia perché triste nella sua essenza ma con un buon finale. Qua si verrebbe da dire da spirito del Natale. Donna sfrattata a 93 anni, Ternano le regala la casa. Parliamo di una signora di 93 anni, è un ex insegnante che vive con sua figlia in uno stato in qualche modo di indigenza per oltre un anno infatti hanno vissuto in una casa a Terni senza acqua e senza energia elettrica. Alla fine sono state sfrattate da questa casa. Hanno 93 anni, non è facile perdere la casa. Da qui era partita una sorta di appello a trovare una soluzione per queste due signore. Bene, la soluzione è arrivata grazie ad un uomo che rimane anonimo, che ha chiamato il comune di Terni, in particolare la vice sindaco, dicendo ho un piccolo appartamento libero a San Valentino, lo metto a disposizione. È così che questa signora con la sua figlia è riuscita a trovare una casa dove poter vivere anche in questo periodo davvero di indigenza e di difficoltà. E allora è una bella storia da raccontare perché a volte anche le notizie belle vanno sicuramente raccontate, non solamente il brutto che si fa ma anche il bene che si fa va raccontato come fatto di cronaca. Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi perché poi parleremo di sport.